Io sono Marzia e il tennis ha fatto sempre parte della mia vita sia come sportiva, come agonista, ma anche dal punto di vista professionale. Dieci anni fa è nato www.tennis-time.it per dare spazio alle associazioni, ai tennis, ai tornei che non trovano modo di essere pubblicati o hanno risalto in altri media, magari nazionali o più importanti. È la voce di tutti, è la voce del tennis che magari tante volte viene ignorato, sottovalutato, è la voce di tutti voi. È per questo che dieci anni sono solo un piccolo primo traguardo da toccare, è per questo che io continuo a aver bisogno del vostro apporto, dei vostri suggerimenti, dei vostri materiali, dei vostri like. Per cui continuate a seguirmi e vi aspetto su www.tennis-time.it sui social.